Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco, benvenuta sulla Alessandra Smerilli, sottosegretaria del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale. Oggi parliamo di economia e in particolare dell'economia di Francesco, appuntamento che abbiamo seguito l'ultima volta in diretta ad Assisi nel settembre scorso. Ci ricordi che cos'è The Economy of Francesco? Difficile definirlo. Questo movimento rete di giovani nasce da una chiamata di Papa Francesco nel 2019 che chiama giovani economisti imprenditori a ritrovarsi ad Assisi con lui per fare un patto per cambiare l'economia attuale e dare un'anima all'economia del futuro. Questi giovani selezionati, poi la pandemia ha rimandato e rimandato questo incontro, ma nel frattempo i giovani hanno lavorato, giovani da 120 paesi del mondo, divisi in villaggi tematici, ma quando la pandemia lo ha permesso, anche costituendo dei gruppi territoriali, hanno cominciato a lavorare nelle loro università, ma anche concretamente nelle imprese, nei luoghi di lavoro e stanno mano a mano portando proposte proprio per impegnarsi in questo patto per cambiare. Per cambiare sia a livello proprio di sistema, cioè di trovare un sistema che produca giustizia e quindi anche pane per tutti, sia attraverso delle esperienze, pure questa è una cosa interessante, hai detto villaggi tematici. Oggi parleremo in particolare di un villaggio tematico, quello che riguarda l'agricoltura. Ma che cosa sono questi linguaggi tematici? Allora, sono villaggi attorno a cui si sono articolate le proposte dei giovani, a secondo anche dei propri interessi, per cui c'è un villaggio di finanza, c'è un villaggio di agricoltura, c'è un villaggio sul lavoro, c'è un villaggio sulla pace, l'economia della pace. Insomma, volete cambiare tutto. Tutto? Tutto. Quindi 12 è un numero anche simbolico. Quello dell'agricoltura è particolarmente importante perché tocca un problema drammatico e concreto che è quello della fame. E tu hai dedicato... Infatti, il villaggio dell'agricoltura si chiama per intero Agricoltura e Giustizia. E tu hai, a partire dai lavori di questo villaggio, scritto un libro con la collaborazione di tutti quelli coinvolti in questo villaggio che si chiama Il pane quotidiano. Partiamo dalle parole del Papa, proprio sulla fame, sul problema degli sprechi anche. Ascoltiamo. Non sprecare i doni che abbiamo. Risulta che nel mondo ogni anno vada sprecato circa un terzo della produzione alimentare totale. E questo mentre tanti muoiono di fame. Le risorse del creato non si possono usare così. I beni vanno custoditi e condivissi. In modo che a nessuno manchi il necessario. Non sprechiamo quello che abbiamo, ma diffondiamo un'ecologia della giustizia, della carità, della condivisione. Cari fratelli e sorelli, poniamoci qualche domanda. Sono attento a non sprecare? Sono responsabili nell'utilizzo delle cose, nell'utilizzo dei beni? E sono disponibili a condividerli con gli altri? O sono egoista? Infine, considero i profagili come doni preziosi che Dio mi chiede da custodire? Mi ricordo dei poveri, di chi è privo del necessario? Ci aiuti Maria, donna delle beatitudini, a testimoniare la gioia che la vita è un dono e la bellezza di farci dono. Capiamo bene, perché tutto questo spreco? Il Papa dice che un terzo dei beni alimentari, prodotti, si spreca, va buttato. Credo che all'interno del libro i numeri siano ancora maggiori rispetto a quello che dice il Papa. Ma come è possibile? Perché finché uno dice che non c'è da mangiare per tutti, è una realtà drammatica, però uno fa i conti con la realtà. Ma se invece c'è, perché ancora milioni di persone soffrono la fame? Una domanda difficile. Intanto il dato, rispetto anche al libro, gli ultimissimi dati ci dicono che il 39% circa del cibo viene sprecato. Di tutto questo, l'8% viene sprecato direttamente, va perduto nelle coltivazioni. Il 14%... Che significa va perduto nelle coltivazioni? Vuol dire che o si raccoglie ma non si manda tutto alla vendita, o può essere anche per catastrofi naturali, ma non è solo questo, o semplicemente non si coltiva bene e si lascia andare quello che c'è. Il 14% viene sprecato nella manifattura, nella trasformazione dei prodotti, quindi non semplicemente dall'agricoltura alla tavola, ma tutto quello che viene trasformato. Il 17% viene perso. Ma questo è un dato inevitabile? No, però arriviamo all'ultimo. Il 14% viene perso poi a livello di consumo. E di questa parte il 60% viene perso nelle famiglie. Quindi di tutto quello che viene sprecato una volta che arriva come prodotto finale, parte viene sprecato nella vendita, ma la maggior parte viene sprecato dentro le famiglie. Quindi già questo è un primo dato, quando il Papa dice sono consapevole qual è la mia parte in tutto questo, è una piccola parte, forse no, quindi anche solo l'attenzione a come facciamo la spesa, come conserviamo gli alimenti, se prendiamo il necessario o facciamo le scorte che poi devono essere buttate e così via. Però chiaramente il problema è in tutte queste fasi e non basta dire viene prodotto abbastanza cibo per sfamare tutti e perché allora alcuni sprecano e altri muoiono di fame, qualcuno dice spostiamo, distribuiamo diversamente. Non è così semplice. Bisognerebbe proprio ripensare il modello fin dall'inizio, e cioè il modo di produrre, dove si produce, perché è un dato di fatto, i ragazzi, i giovani del villaggio di agricoltura e giustizia hanno tanto denunciato anche questo fatto, e cioè che se grandi compagnie multinazionali arrivano in alcuni territori, fanno piazza pulita delle piccole coltivazioni e si impiantano queste grandi coltivazioni che poi non rimangono in quei luoghi, ma vengono trasportate altrove. Quindi, semplificando, per coltivare le cose che andranno sulle nostre tavole tolgono la roba dalla tavola della gente del posto. Questo è il sistema malato. Viceversa, fammi capire questo fatto della responsabilità personale. Buttare il cibo è terribile, è immorale, direi. Ma se noi facessimo una spesa più oculata e stessimo attenti a non sprecare le cose, in che modo incideremmo sulla fame degli altri? Allora, chiaramente riequilibrando il sistema, e cioè si produrrebbe di meno da portare sulle nostre tavole perché noi chiediamo di meno. E quindi questo forse farebbe cambiare anche un po' la produzione. Di certo non va a risolvere il problema alla radice. Cioè la cosa che butto io non può finire sulla tavola di un altro. Prima, naturalmente, non è così semplice. Però se io consumassi di meno, ci sarebbe più roba sulla tavola dell'altro. Sì. La possiamo dire così? Diciamola così, sì. Però tu giustamente segnalavi che è proprio un problema di sistema. Papa Francesco ha detto celebre la frase questa economia uccide altre volte, stiamo per sentirlo, ha detto è malata. Ascoltiamo il Papa. L'economia è malata. Si è malò. È malata. È il frutto di una crescita economica iniqua. Questa è la malattia, no? È il frutto di una crescita economica iniqua, che prescinde dai valori umani fondamentali. Nel mondo di oggi, i pochi ricchissimi possiedono più di tutto il resto dell'umanità. È un'ingiustizia che grida al cielo. Nello stesso tempo, questo modello economico è indifferente ai danni inflitti alla casa comune. Non si prende cura della casa comune. La disuguaglianza sociale e il degrado ambientale vanno di pari passo e hanno la stessa radice. Quella del peccato di voler possedere, di voler dominare i fratelli e le sorelle, di voler possedere e dominare la natura, è lo stesso Dio. Quando l'ossessione di possedere e dominare esclude milioni di persone e dai beni primari, quando la disuguaglianza economica e tecnologica è tale da lacerare il tessuto sociale, e quando la dipendenza da un progresso materiale illimitato minaccia la casa comune, allora non possiamo stare a guardare. No, questo è desolante. Non possiamo stare a guardare. Partiamo dal peccato. Questo peccato di possedere trova nel tuo libro dei numeri che mettono davvero in crisi. Vale a dire, i due terzi della ricchezza prodotta nel mondo sono assorbiti dall'1% della popolazione mondiale. È un dato scandaloso, però per certi versi pure disarmante. Non possiamo stare a guardare, dice Papa Francesco, voi che cosa state facendo? Come si può combattere questo mostro? È difficile, è difficile perché ci sono dei meccanismi che sono saltati. Da un po' di anni a questa parte le disuguaglianze, e quindi la concentrazione di ricchezza nelle mani di pochi, va sempre aumentando. È come se non si riuscisse ad arrestare. E quando dice pochissimi che governano tutto, questo è preoccupante, questo mostro. Ma quali sono i meccanismi saltati? Quando Papa Francesco, e questo l'ha detto fin dall'inizio, questa economia esclude. Perché? Se tutti possiamo partecipare, siamo in un sistema in cui ognuno può metterci del suo, quando c'è qualcosa che non funziona, si protesta, ci si fa sentire e in qualche modo ci si rimette in pista. Quando si è esclusi dal sistema non si viene visti e quindi io posso anche dire che non funziona, ma nessuno mi sente e le cose continuano ad andare in questo modo. Senti, la cosiddetta teoria del gocciolamento è una menzogna, cioè quella lì la semplifico, poi correggimi se sbaglio, per cui arricchendo tantissimo i ricchissimi, comunque ne beneficiano tutti. Quindi c'è una superproduzione di ricchezza, è vero, ci sono questi che si prendono, l'1% che si prende, i due terzi della ricchezza, però anche chi sta più in basso sta meglio. Sorrido perché ha dato un'idea molto plastica Papa Francesco su questo tema in una delle catechesi, perché è come se fosse un bicchiere riempiendo quel bicchiere con chi riesce a produrre di più, eccetera, quindi dando la possibilità di arricchirsi, poi l'acqua arriva al culmine e comincia a sgocciolare. E Papa Francesco dice, cosa sta capitando adesso? Che quando si arriva verso il culmine le pareti del bicchiere si alzano. E quindi non capita mai che tutto questo vada secondo come era previsto. E voi, rispetto all'agricoltura, che però è un punto nevralgico, perché riguarda proprio la produzione delle cose da mangiare, avete individuato alcuni pilastri, li chiami tu, che sono l'ecologia integrale, agricoltura e donna, valore ideale del cibo e cura della casa comune. Che sono un po' i temi che Papa Francesco enunciava nel video che abbiamo appena visto sul mettere tutto insieme. Quando si parla di sviluppo integrale vuol dire che dobbiamo tener conto di tutto, perché un problema che provoca fame è anche tutto quello che sta accadendo a causa dei cambiamenti climatici che colpiscono soprattutto alcune zone del mondo che sono quelle che meno contribuiscono all'inquinamento, che quindi già avrebbero problemi. Con i cambiamenti climatici la fame aumenta. E quindi è per questo che per poter garantire cibo per tutti ed un pilastro dell'agricoltura è anche quello di prendersi cura della casa comune e fare in modo che ci possano essere dei modi di coltivare che siano rispettosi della natura e della casa comune. Questo è uno dei temi. Il tema delle donne è molto sentito dai giovani, sono loro che hanno suggerito fortemente questo tema. Perché? Perché soprattutto in alcune zone del mondo sono le donne che riescono a garantire di poter passare dalla coltivazione che in prima persona lavorano e che riescono poi a portare il cibo in tavola. E quindi riconoscere anche questo sforzo e questo lavoro. E poi c'è il tema del valore reale del cibo, delle speculazioni che sono sul cibo. Qui però risentiamo il Papa perché poi entriamo anche nell'esperienza concreta. ci raggiungerà un amico tra pochissimo. Sentiamo prima il Papa. Per tanti di voi, lo abbiamo appena ascoltato, l'incontro con l'economia di Francesco ha risvegliato qualcosa che avevate già dentro. E quando un giovane vede in un altro giovane la sua stessa chiamata e poi questa esperienza si ripete con centinaia, milaia di altri giovani, allora diventano possibili cose grandi. Persino sperare di cambiare un sistema enorme, un sistema complesso come l'economia mondiale. Voi siete chiamati a diventare artigiani e costruttori della casa comune. Una casa comune che sta andando in rovina, diciamolo così. Una nuova economia ispirata da Francesco De Assisi oggi può essere un'economia amica della Terra, un'economia di pace. Si tratta di trasformare l'economia che uccide in un'economia della vita, in tutte le sue dimensioni. Non basta fare il maquillage. Bisogna mettere in discussione il modello di sviluppo. La situazione è tale che non possiamo soltanto aspettare il prossimo summit internazionale che può non servire. La Terra brucia oggi ed è oggi che dobbiamo cambiare a tutti i livelli. Saluto collegato con noi Ivan Sagnè, presidente dell'associazione Nocap, citato nel libro di Sor Alessandra come una delle pratiche concrete che aiutano il cambiamento. Ciao Ivan. Ciao, buonasera a tutti. Approfitto per salutare Sor Smerilli perché ci ha citato nel suo libro, quindi ci fa molto piacere. Ivan, tu sei partito una dozzina di anni fa ribellandoti al caporalato, allo sfruttamento del lavoro, dei lavoratori. Nel frattempo però la tua associazione è cresciuta e un prodotto Nocap tiene conto di tante cose. Che cos'è per te il valore del cibo? Perché di questo stiamo parlando e qual è l'aspetto malato sul valore del cibo oggi per noi, di questo sistema? Per me il valore del cibo significa dignità. Significa dignità per chi lavora la terra. Cioè il cibo purtroppo non appartiene più a chi lo produce, ossia ai lavoratori, alle aziende, ai contadini. Il cibo oggi appartiene a una minoranza, alle multinazionali, ai supermercati, che dettano le regole perché possiedono il cibo degli altri. E quindi questo ha creato distorsioni, ai meccanismi perversi. e noi oggi come associazione vogliamo ribaltare le cose. Cioè vogliamo che il valore del cibo riparta dalla dignità dei lavoratori, dalla dignità degli agricoltori. Questo. Che cosa significa però? Perché detta così significa, non capisco bene, cioè significa legare il valore del cibo alla dignità del lavoratore, ma visto dal punto di vista, diciamo, del consumatore, che significa? No, significa questo, che praticamente il cibo, prima di arrivare sulle nostre tavole a casa, quindi effettuando tutta la filiera, la ridistribuzione del valore aggiunto si fa iniquo. Cioè chi nella filiera agroalimentare, a partire dalla grande distribuzione che possiede il mercato, detta regola del mercato, fanno sì che gli altri attori, a partire dai lavoratori e degli agricoltori, rimangono con le brisciole in mano, per cui non possono vivere del loro lavoro, non possono vivere la loro terra, non possono vivere del cibo. Quindi c'è una disegualianza all'interno della filiera agricola, nonostante sia un settore, quello dell'agricoltura, che godo di una buona salute, che non è mai andato in crisi. Noi abbiamo visto anche, per esempio, durante il lockdown, i supermercati riscappali, dei supermercati svuoti, perché il settore era un settore comunque in salute, e solo che nello stesso momento i diritti dei lavoratori e quelli degli agricoltori sono diminuiti. Per cui, dentro la filiera agroalimentare, c'è questa minoranza, ossia i supermercati, dove andiamo a fare la spesa tutti i giorni, che rimangono con due terzi del valore aggiunto, per prendere i numeri rispetto a 40 anni. Praticamente, Ivan, mi stai dicendo che, dimmi se ho capito bene, che nella produzione dei prodotti agricoli, e quindi del cibo, si arricchiscono solo pochissimi, e chi, appunto, i contadini, le aziende agricole, sono schiacciate dalle grandi catene, sostanzialmente. Il prezzo sarebbe giusto, ma andrebbe distribuito diversamente? Sì, allora, più o meno così. Allora, c'è un problema partendo dal prezzo, perché cosa fa la grande distribuzione dei supermercati? Dettano le regole del mercato a partire dalle regole del prezzo, e i prezzi sono sempre più bassi. Questo schiaccia il produttore, questo fa sì che i produttori e le aziende non hanno margine per sostenere alcune spese, a partire dal costo del lavoro. Quindi scaricano a loro volta, sui lavoratori, quello che subiscono dalle catene. Per cui si è parlato, per esempio, del problema del costo energetico, del costo del gas, si è scoperto tutta la speculazione che c'è sul gas, sull'energia, e la stessa cosa sul cibo. Chi deve fissare il prezzo del cibo? Noi pensiamo che il prezzo del cibo debba essere fissato da chi lo produce, non da chi lo compra, dal produttore. Bisogna partire da lì, perché il produttore che sa quanto ha speso per varie voci di spese, a partire dal lavoro. Per cui il modello produttivo in agricoltura è insostenibile, quindi ricalca un po' quello che ha detto Papa Francesco. Voglio tornare in ultimo, abbiamo 30 secondi da Sra. Alessandra per capire bene questo meccanismo, perché se, come dice giustamente Ivan, c'è uno sfruttamento dei gradini primi, più importanti, ma anche più bassi, di questa produzione, il problema però è il meccanismo di domanda offerta. Cioè sono io, quando vado al supermercato, che ho uno stipendio tale da consentirmi di comprare, che ne so, un chilo di pasta a 90 centesimi, mezzo chilo di pasta a 90 centesimi, e non di più. Che cosa bisogna cambiare allora? Lo dico con due esempi, in 30 secondi. Il primo è, quando io vado al supermercato e il mio stipendio non mi permette di, c'è una contraddizione, perché il mio stipendio, se sono un lavoratore, sarebbe diverso se la catena funzionasse in modo giusto. Quindi io mi lamento che non ho soldi per, ma poi pago poco e chi ha prodotto, chi è all'origine di quel prodotto, riceve poco. E quindi è una catena che va a ribasso. Quindi se pagassi di più si monterebbe anche il mio stipendio? Alla fine, 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 si cambia il sistema, sì. La seconda è, c'è un salumiere nel quartiere dove io vivo che cerca di avere tutti i prodotti direttamente dalla fonte, andando a diminuire i costi del trasporto, della distribuzione. I suoi prodotti costano uguali, se non meno, che al supermercato. Quindi è possibile. Buon lavoro davvero, Sora Alessandra e Ivan. Grazie per essere stati con noi. Noi ci rivediamo domani, sempre alle 17.30.